Ciao a tutti sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi Era iniziato tutto per provocare e fare uno scherzo al resto dei concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà, ma adesso i telespettatori non ne sono proprio tanto sicuri Sembrerebbe ci sia del tenero tra una VIP e un NIP del GF 2023, coppia improbabile Lui la sta aiutando con l'ascolto, con tante tenerezze.Tra i due concorrenti voluti da Alfonso Signorini corrono oltre vent'anni di differenza e vivono due stili di vita completamente opposti Eppure qualcosa sembra essere scatto da quell'ingenuo scherzo Gli occhi non mentono, almeno sembra così ai fan del GF 2023, che commentano online Loro contro tutto il cast.GF 2023, tutti notano la vicinanza tra i due concorrenti Potrà anche risultare antipatica, non si può piacere a tutti, ma Beatrice Luzio è in parte diventata il capro espiatorio del GF 2023 Non mi importa che possono pensare. Mi dispiace troppo, per la tua situazione Dopo, magari, vado a parlarci e gli dico che non va bene, devono trovare un compromesso Devono dirti con esempi pratici cosa non va bene, così dirai quello che non ti fa star bene Se ti vengono contro forse è perché sei la più forte, è paura I tuoi figli saranno orgogliosi, fidati, l'ha sostenuta Giuseppe Garibaldi, mentre si erano appartati da soli in giardino dopo che lei aveva litigato col resto dei geffini del GF 2023 La complicità tra i due prosegue, tanto che lui ha deciso pure di prendere le sue parti mettendo a rischio la sua ottima posizione con i coinquilini Sei stato così carino a starmi vicino. Tranquillo non dirgli niente Mi basta che tu ci sia, significa molto. Vuoi vedermi serena, non posso essere il punching ball di tutti Se me ne vado chi nominano? Neanche so se ciò che ho detto prima a Paolo e agli altri avrà fatto capire Mi tengono all'angolo, vogliono sia la cattiva che a tutti contro La cattiveria in chi pensa certe cose, si è confidata lei Raga sta succedendo sul serio? I amo, è amore, i commenti di diversi fan su Twitter Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video